Buon pomeriggio a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, qui è il vostro Andrea che vi parla e vi dà il bentornati ad un nuovo appuntamento con il pronosticone del profe. Quindi non sono solo, ciao profe, come stai? Buon pomeriggio! Ciao Andre, tutto bene, tu come stai? Tutto bene, tutto bene. In questa giornata un po' uggiosa, un po' buia, devo dire la verità, ritorniamo con il pronosticone del profe, che ha visto una grande svolta nell'ultimo episodio perché piano piano, con tanta forza e anche con un po' di culo, se si può dire, mi sto riagganciando, sto tornando dopo settimane passate dietro, mi sto avvicinando. Aggancio avvenuto nel fantacalcio grazie a Kvara e Zaniolo, soprattutto e alla porta imbattuta di Onana. Ma aggancio il profe, che invece non credo abbia avuto particolari bonus e particolari fortune, devo dire la verità. E quindi siamo sul 4-4 per quanto riguarda il Fanta. Per la schedina anche vinco, ed è raro vincere nella schedina contro il profe, 5-4 grazie ai risultati dell'ultimo weekend. E quindi mi trovo lì a mezzo punto, 32 a 32 e mezzo. E adesso c'è una giornata importantissima, che potrebbe essere la giornata del sorpasso, profe. Chi è? Che ti sta succedendo, profe? Che ti sta succedendo? Come tutte le grandi squadre, un momento di flessione c'è per tutti. Torneremo più parti di prima. E bisogna gestirlo. Bisogna gestirlo. Ma bando alle ciance, bando alle ciance, profe. Tu sei mio, io ti chiamo come tutte le settimane le partite, giornata bollente, giornata bollente con grandi match. E iniziamo quindi dal primo match di giornata, Udinese-Lecce. Pronosticato un ritorno alla vittoria dell'Udinese. È troppo tempo che non vince, dopo un inizio scoppiettante. È la partita giusta, uno. Empoli-Sassuolo. Qui mi gioco un bel azzardo. X. Bella chiamata, profe. E poi, Salernitana-Cremonese. La Salernitana dei sogni. La Salernitana dei sogni merita fiducia. La partita non sembra essere troppo impegnativa. Uno. E poi, primo dei tre big match di giornata. Atalanta-Napoli. Come non dare fiducia al Napoli. Però, mi copro e gioco l'X2. Milan-Spezia. Uno. E andiamo avanti. Bologna-Torino. Questa è una bella partita. Tosta. Sono costretto a coprirmi. Però, nonostante la vittoria del Bologna all'ultima giornata, voglio dare fiducia a Juric. X2. Monza-Verona. Questa è la partita giusta per ripartire per il Monza. Uno. Sampdoria-Fiorentina. Altra bella giornata. Altra bella partita. Tosta insidiosa. X2. E poi, mio caro prof, il derby Roma-Lazio. Lazio scoppiettante. Due. E qua, gli scongiuri. Sono tutti nostri. E poi, per chiudere, con il derby d'Italia. Juve-Inter. Lo voglio scrivere. Lo puoi scrivere? X. Grande prof. Mamma mia, prof. Che bello. Che bello giocare con te. Questa settimana ha azzardato, te lo dico prima. Anche tu? Te lo dico prima o ha azzardato. E allora, andiamo. Udinese-Lecce. Doppie chance, prof. Ok. Udinese-Lecce. Uno. Empoli-Sassuolo. Uno. Il gatto che sale del dietro. Hai visto il gatto? Guardalo. Vedi? Questo è proprio quello che ci serviva per questo video e rimarrà nel contenuto. E andiamo avanti. Salernitana-Cremonese. Uno. Atalanta-Napoli. Qui ti sorprenderò con effetti speciali. Secondo me il Napoli potrebbe essere fermato. E non avendo giocato le doppie chance, gioco l'uno dell'Atalanta. Tosta. Mila Spezia. Uno e possiamo anche andare avanti, prof. Bologna-Torino. Qui mi gioco l'X perché prevede una partita molto equilibrata. Monza-Verona. Monza-Verona gioco un altro segno X in una partita più che scontata, cioè non scontata, per niente scontata e molto combattuta anche questa, punti importantissimi per quanto riguarda la salvezza, anche se il Monza, diciamo, negli ultime settimane si è levato un po' da quella zona lì. Ma è presto, tornarci è facilissimo. Samp-Fiorentino. Allora, do fiducia all'italiano sperando che quella vittoria contro lo Spezia in una partita sporca possa aiutare a dare fiducia e la Samp deve fare punti, però la vedo veramente lontana rispetto a tutte le altre, quindi mi gioco il 2 della Fiorentina, il 2 della Viola. E poi il derby, Roma-Lazio. Uno. E infine Juventus-Inter. Chissà se il buon vecchio Volpone Allegri riuscirà a sconfiggere l'Inter nel derby d'Italia. Io l'uno ce lo metto, perché innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi per la partita contro il Paris Saint-Germain e giocare partita dopo partita. Partita difficilissima, mi gioco uno. Ti ho stupito senza doppia chance questa settimana, vero proprio? Eh, il rischio è tanto, però se fai centro fai jackpot. Speriamo di trovare il jackpot. E quindi ragazzi, come al solito qui al centro trovate la nostra incredibile schedina. Giocate le vostre, scrivetele nei commenti, mettete un like e adesso passiamo alla... parte succulenta, quella che ci diverte sempre di più. I sei consigli del Fanta, profe. Profe, quali sono i tuoi sei consigli per la giornata di oggi? Allora, in porta mi gioco Silvestri. Visto che, come ho pronosticato, l'Udinese vincente in una partita, secondo me, non troppo difficile, l'Udinese può fare porta inviolata. In difesa torna un mio fedelissimo, Mazzocchi, della Salernitana. Centrocampo un po' sperimentato, però giocatore di qualità. Mighi Darian e Traoré Junior, HG, non so come si chiama. E infine, in attacco, la certezza del Milan, Rafa Leao e insieme a lui il bomber Marco Arnautovic. Mi piace, mi piace quando c'è un po' di esoticità anche in questi nomi, mi piace, mi piace sempre. E' bello, profe, rischiare e giocare con te. Quindi, adesso, ti dico chi ho schierato io. Nei sei consigli del fronte. Il portiere della mia seconda scuola del cuore. Sepe in porta per Salernitana-Gremonese. Chissà, porta inviolata? Speriamo. In difesa, sperando in un bonus, che l'altra settimana è arrivato per quanto riguarda il fantacalcio personale. Gioco Cristiano Biraghi, della Fiorentina. A centrocampo, Zambo Anghissà. In una partita comunque tosta, dove ho dato il Napoli perdente, però Zambo è una certezza. Insieme a Samarzic, mancino delicatissimo dell'Udinese, e davanti il bomber della mia seconda scuola del cuore. Bula Iedia, e poi, in vista del mio pronostico del derby, Tammy fucking Abram. Quindi, ragazzi... Sarà la partita giusta per Abram? Speriamo, anche perché insegna manco con le mani quest'anno, quindi speriamo che sia quella giusta. Quindi, ragazzi, come al solito, qui sotto di noi, vedete le nostre formazioni, i nostri sei consigli del Fanta. Come al solito, ringrazio il profe per la disponibilità, e gli auguro il mio più sincero in bocca al lupo, come tutte le settimane. Crevi. Quindi, grazie mille profe, grazie, 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 sempre e comunque onnipresente. Invece a voi, ragazzi, chiedo di lasciare un like al video, iscrivervi al canale, attivare la campanellina, iscrivervi al nostro gruppo Telegram. Per oggi è tutto, dal vostro Andrea un grande abbraccio e ci vediamo al prossimo video.